Controlli antiprostituzione e parcheggiatori abusivi a Salerno, a pochi passi dalla Rechi nei pressi degli stabilimenti bagnari già pronti per l'imminente stagione estiva, e delle nuove abitazioni dove dilagano incontri notturni tra clienti e lucciole trans e bisessuali. 62 verbali elevate in due settimane, scattano quindi le maxi multe per 19 clienti delle prostitute. Un viavai notturno di auto e incontri a luci rosse alle spalle del settore distinti dello stadio a Rechi. Sono tornati però anche i parcheggiatori abusivi all'esterno del cinema multisala. Anche nel pomeriggio di ieri clienti e avventori sono stati infastiditi dagli abusivi. Scatta dunque l'allarme sicurezza nell'area dello stadio a Rechi. I numeri parlano da soli. Con l'inizio del mese la Polizia Municipale ha inasprito i controlli antiprostituzione per fermare gli incontri a pagamento in auto. Nel mirino sono finiti anche 5 trans che vendevano il proprio corpo anche nel pomeriggio. Per 19 clienti è scattata la multa di 500 euro.